Amici 3B Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà un nuovo sistema nuvoloso atlantico avvicinarsi alle nostre regioni centro-settentrionali portando nuove piogge al nord e sul medio alto Tireno, situazione invece che va temporaneamente migliorando al sud. Controlliamo anche la nuvolosità prevista sull'Italia, come vi dicevo nelle regioni meridionali temporaneo miglioramento con il ritorno anche di ampie schiarite, invece il centro-nord farà conto con questa nuova perturbazione che porterà appunto anche delle piogge. E allora verifichiamo le precipitazioni previste sull'Italia con l'arrivo di acquazzoni anche di forte intensità dapprima sulle regioni di nord ovest, poi su quelle del medio alto Tireno e infine anche al nord est. Quindi diciamo nord e regioni Tireni che vedranno un peggioramento del tempo che insisterà poi anche domenica. Quindi in definitiva ci attendo un sabato che vedrà sì un temporaneo miglioramento al sud anche sulle regioni del medio adriatico, però come vedete ancora sarà presente comunque un po' di variabilità. Ma sarà il nord Italia e il medio alto Tireno, la parte del paese con le precipitazioni più insistenti, più intense e anche a quel punto con le temperature un po' più contenute, soprattutto sulle regioni di nord ovest. Con questo è tutto, però per i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie.